Ed eccoci qua cari amici, niente, breve diretta qua tra le bancarelle, tra le bancarelle qua della fiera. Salutate qua il Marvi, guardate qua, due che guardano il canale del Marvi, dalla Sardegna, pazzesco. Eccolo qua, grazie, ciao. Eccolo qua, ragazzi, guardate qua, insomma, siamo qua alla fiera. Insomma, è così, diretta improvvisata, in mezzo alle bancarelle, si passa, si scrutta, si guarda, si osserva. Eccolo qua, ragazzi, guardate qua, vediamo qua, quegli appassionati, quelli vecchi e molto qua, questi bei reperti. E niente, ragazzi, vi faccio vedere così, guardate qua, un motociclo, un ciclomotore, Ducati, mai visto dal Marvi, chiaramente. E niente, ragazzi, qua abbiamo un Bianchi. Eccolo qua, ragazzi, qua la gente sta mangiando, siete contenti? Insomma, la pancia è piena? Alla salute. Alla salute, eh, mi raccomando, eh. Qua si vende qualcosa o no? Domani, speriamo che... Ho una domanda molto, molto. Dimmi, dimmi. Mi hanno dimenticato i soldi a casa. Ah, eccolo qua. Eccolo qua, ragazzi. Non tirano fuori le mani del tasso. Purtroppo noi italiani abbiamo poco potere d'acquisto, o no? Però gli stranieri vedo che le moto le fanno uscire. Guardate qua, cari amici, guardate qua, vi ho dato così un'altra diretta, così, dalla fiera Camer Reggio Emilia, insomma, è così. Questo è il Marmin. Eh? Cos'è? Questo è una fotocamera con un microfono. No, per quale giornale? No, sono un ammatoriale, faccio l'operaio meccanico, però... Eccolo qua, ragazzi. Però, probabilmente ti vedi, eh, un giorno, vai tranquillo. Ragazzi, ciao a tutti, spettacolo, eh. Ciao a tutti. Ciao a tutti.